In questo intervento farò alcune considerazioni su come la scienza dello yoga possa oggi rappresentare una valida risorsa per l'affrancamento dell'individuo dagli effetti, per così dire, collaterali dello stile di vita moderno. Lo sfrenato consumismo sul quale si basa di fatto l'economia mondiale, cioè la totale dipendenza dalla moda e dalle tendenze, oramai il termine trend è entrato nel linguaggio comune e sappiamo come rappresenti il cavallo di battaglia della grossa produzione. Tutto questo ha prodotto quella perdita di possesso del concetto di persona, impoverendo pericolosamente l'individuo e quindi l'intera società. Un fenomeno questo che non sfugge certamente agli osservatori più attenti, dall'educatore al politico, settori dove spesso si tenta di introdurre dei correttivi attraverso provvedimenti che, seppur apprezzabili nelle intenzioni ovviamente, non producono quasi mai il risultato desiderato, perché sono concepiti applicati alla luce della stessa cultura che ne ha prodotto i danni. E questo perché sono quasi sempre basati su una visione quantitativa della realtà, dal momento che l'epoca attuale si fonda sul regno della quantità, come lo definì agli inizi del ventesimo secolo quel superbo scrittore e filosofo, preneghe non appunto, anticipando con estrema lucidità la visione degli effetti devastanti di una società moderna. Possiamo ritrovare un'anticipazione di circostanze che oggi sconvolgono la convivenza dei popoli da alcuni suoi scritti, tra cui consigliabile il regno della quantità e i segni dei tempi. Questi correttivi, dicevamo, concepiti per riparare e a volte prevenire danni e ingiustizie sociali, anche quando nell'intenzione volessero recuperare il valore morale di alcuni principi, purtroppo raramente producono gli effetti sperati, solo perché si basano su una visione errata, quella attuale appunto, del mondo e della persona. Dall'epoca delle prime conquiste sociali di progressi ne sono stati fatti molti, progressi che hanno riscattato l'uomo da condizioni spesso disumane, consentendogli di recuperare quei diritti fondamentali di ogni sana società. Ma purtroppo la visione sociale è stata il solo e unico metro che ha segnato il progresso del mondo occidentale, una visione quindi limitata, parziale, malata, impoverita di quella che è la reale natura dell'uomo. Procederò quindi su due assunti in base ai quali è possibile intravedere una probabile correzione del nostro modo di considerare la vita. Il primo assunto è che lo yoga cambia la visione del mondo. I progressi della scienza della psiche oggi rivendicano a pieno titolo che la mente gioca sulla salute fisica un concetto d'altronde non estraneo alla nostra antichità classica e di cui si era perduto il valore, ma non basta, non si tratta di un binomio corpo-mente, bensì di una triade corpo-mente e spirito. Il secondo assunto è che lo yoga cambia la visione della realtà. Lo spirito per noi è dimensione nebulosa, a volte quasi paurosa, confinata al mondo dell'aldilà. Tutta più è qualcosa rivendicata dalle religioni che ne hanno fatto sempre una merce di scambio, un premio lontano a venire, un premio incerto, fumoso, a fronte di una condotta terrena irreprensibile, fatta di sacrificio, di rinunce, per lo più basate sul dogma. Lo spirito invece è una realtà attuale, concreta, che è presente in ogni momento della nostra vita, è il midollo della struttura organica, anche se il corpo si vede e lo spirito no. Se lo spirito è malato lo sono anche la mente ed il corpo ovviamente. Se nelle scelte che facciamo lo spirito regola la visione del mondo, anche quando queste scelte hanno un obiettivo materiale e non spirituale, tuttavia il nostro comportamento non potrà non agire conformemente a un sistema e a uno schema logico che lascerà intravedere i risultati. Siamo cioè il risultato delle nostre azioni. E questo è ciò che nella cultura indiale viene definito il prodotto del karma, secondo il quale i comportamenti, le pulsioni, le spinte, cioè i samskara nella lingua sanscrita, delineano già dal loro insorgere gli effetti che l'azione del tempo metterà in essere. Non c'è niente di fatalistico, di fumoso, come spesso affermano i sostenitori di un materialismo spinto, allo stesso modo che la qualità, la giusta disposizione dei mattoni, la perizia impiegata nella costruzione, produrranno le caratteristiche di un muro, un muro solido o un muro pericolante. Gli effetti sono preesistenti nella causa. Ecco, questa è la chiave di volta di tutta la struttura del pensiero filosofico indiano, ma tornerò su questo concetto in maniera più specifica. Tutti i metodi di yoga prevedono un training etico e morale. Costituiscono la base per lo sviluppo successivo, cioè quell'allargamento della personalità non più confinata ai fenomeni dell'esistenza materiale, quella personalità che produce la capacità di distinzione tra reale e irreale, cioè il costante mantenimento dell'equilibrio psico-fisico associato a volte a un intenso attaccamento ad alcuni aspetti della realtà sovra-individuale. Ed è proprio questa realtà che trascende la visione limitata del mondo che dà l'inizio a quel conteggio, quella enumerazione chiamata in sascrito Sankhya, la quale fornì la mappa allargata della realtà in tutti i suoi aspetti, l'aspetto fisico, l'aspetto morale e quello spirituale. Sankhya è un termine che possiede più di un significato, come spesso avviene con le parole sascrite. Come aggettivo esso si riferisce a un qualsiasi elenco e può presumibilmente essere usato in qualsiasi ricerca nella quale l'enumerazione e il calcolo costituiscono il metodo principale, cioè la matematica, ma anche la grammatica, la medicina e così via. Usato come nome maschile, esso designa colui che calcola, che elenca in maniera propria e corretta. Infine, come nome di genere neutro, il termine si riferisce a un sistema di filosofia dualistica che procede attraverso un metodo di enumerazione dei contenuti dell'esperienza e del mondo, allo scopo di ottenere una radicale liberazione dai legami della vita terrena e della rinascita. Questa ultima interpretazione si riferisce a ciò che nei differenti sistemi, Upanishadico oppure riferito a Patanjali nella sua opera Yoga Sutra viene definito Moksha o Kevalya. Queste tre dimensioni, cioè aggettivo, nome maschile o nome neutro nel significato della parola Sankhya, non sono semplici distinzioni simultanee, ma indicano più che altro lo sviluppo storico del termine nel periodo antico, cioè è possibile identificare tre fasi del suo sviluppo. La prima fase, la ricerca intellettuale della tradizione colta dell'India antica del periodo vedico che si fa risalire, secondo la visione accademica, a 1500 anni prima dell'era cristiana, attraverso il periodo della dinastia Mauria, per arrivare quindi al IV secolo a.C., dove fu frequentemente accostato alla enumerazione dei contenuti di una particolare e materia, ad esempio i principi dell'arte del governo descritti nell'arta Shastra di Cotilia, oppure i principi della medicina ayurvedica contemplate nelle opere fondamentali Charakasamita e Sushrura Samita. Secondo, può essere considerata una seconda fase dello sviluppo del termine Sankhya. Inizia così nel periodo delle più antiche Upanishad pre-buddhiste, circa VIII-VII secolo a.C., per ritrovarsi nella tradizione dei vari gruppi monastici, movimenti buddhisti e jainisti, raggiungendo poi il suo culmine in una sorta di pensiero speculativo che possiamo ritrovare nell'epica, il Mahabharata e quindi nella Bhagavad Gita, nelle descrizioni cosmologiche dei più antichi Purana e quindi in sostanza fino ai primi secoli della nostra era. Se nel periodo più antico, quello della tradizione vedica, il termine Sankhya può essere riferito generalmente a qualsiasi elencazione di principi nell'ambito di un Anvishiki. Cos'è l'Anvishiki? È qualcosa come l'enumerazione di contenuti di una particolare materia attraverso il ragionamento sistematico. Elencazione utilizzata nella costruzione di un lavoro scientifico. Nel secondo periodo, cioè quello Upanishadico, invece la nozione di Sankhya viene associata ad una metodologia di ragionamento nell'ambito della conoscenza spirituale, la quale conduce alla liberazione dal ciclo delle rinascite. Ma è anche possibile che verosimilmente, persino nel primo secolo, cioè quello Vedico, il termine nel senso generale di enumerazione intellettuale fosse applicato nel contesto meditativo e nella cosmologia religiosa, oppure nella enumerazione delle parti del corpo del respiro, come nella Tarva Veda. Ma è certamente nel secondo periodo, quello Upanishadico, cioè che il Sankhya diventa la nozione preeminente in quegli ambienti nei quali la meditazioni, la meditazione, gli esercizi spirituali, la cosmologia religiosa costituiscono il soggetto principale, il soggetto cruciale. L'ontologia arcaica della Chandoghya Upanishad, ad esempio, con la sua enfasi sull'essere primordiale, Sat, nella triplice manifestazione come fuoco, rosso, acqua, bianco, cibo, nero, associati alla parola, il respiro, la mente, Chandoghya Upanishad, sesto, due, cinque, probabilmente prefigura già le tarde nozioni ontologiche, che sono proprie del Sankhya come sistema filosofico, cioè quelle di Prakriti, la natura, dei Treguna, le modalità dell'energia, e soprattutto la presenza dell'effetto non ancora manifestato già nella causa. E questo è un pilastro fondamentale di questo sistema filosofico, la presenza dell'effetto non ancora manifestato già nella causa. Una citazione, due alati, stretti amici, sono attaccati allo stesso albero. L'uno di essi mangia i dolci fichi, l'altro, senza mangiare, guarda attentamente. Questa citazione è tratta dalla Mundaka Upanishad 3.1 e lascia prefigurare l'immagine di Purusha e Prakriti, ossia spirito e materia, un testo questo nel quale l'antico simbolismo vedico è fortemente presente e nel quali termini Sankhya e Yoga sono effettivamente presenti. Speculazioni cosmologiche come queste sono combinate con elaborate descrizioni dell'esperienza yogica in altri Upanishad e addirittura nella stessa Bhagavad Gita. Lo stesso tipo di speculazioni è usato nella letteratura medica in Charaka Samhita e Sushruta Samhita. È significativa l'affermazione di Franklin Edgerton, insigne sanscritista e endologo, cioè qualsiasi formulazione di verità metafisiche, a patto che la relativa conoscenza sia senz'altro concepita per condurre alla salvezza, può essere definita Sankhya. Sembra quindi che il Sankhya significhi all'interno dell'Eupanishad e dell'epica semplicemente la via di salvezza attraverso la conoscenza, senza l'implicazione di qualsiasi altro sistema metafisico. La terza fase, l'inizio della terza fase coincide con la fine del secondo ed è quello in cui viene prodotta la Sankhya Karika, una sistematizzazione e commento ad opera di Ishvara Krishna che è vissuto dal 350 al 450. In questo periodo che corrisponde ai primi secoli della nostra era viene definita in maniera strutturale una tradizione filosofica tecnica dove principalmente si tenta di stabilire alcuni strumenti di conoscenza, pramana in sanscrito, attraverso una loro definizione accurata. Secondo, si sviluppa uno speciale interesse per lo strumento dell'inferenza o della deduzione, in sanscrito anumana, nella costruzione di un ragionamento. Terzo, la cura nello stabilire il numero dei principi basilari della realtà, con il loro preciso ordine di elencazione, includendo il termine tecnico tanmatra, ossia tradotto nella nostra lingua elemento sottile. Quarto punto, il pieno sviluppo della nozione di prakriti, cioè della natura, dei tre guna, cioè delle tre modalità dell'energia e della loro trasformazione e soprattutto ancora la preesistenza dell'effetto nella causa. L'esistenza di una pluralità, come quarto punto, di una pluralità di purusha o di anime, che corrisponde grossomodo appunto alle anime individuali. Ma vediamo ora di delineare meglio questo sistema che costituisce in definitiva il paradigma di tutte le speculazioni filosofiche che tendono alla salvezza dell'individuo e che verrà nella tradizione colta dell'india associato all'altro sistema tradizionale, cioè lo yoga. Prendiamo il nostro ragionamento e lo collochiamo sotto la luce dell'ontologia, quindi un aspetto e una visione ontologica. In base a questo concetto e a questa visione esiste da sempre un dualismo composto da due principi onnipervasivi, e cioè la pura coscienza, che definiamo purusha, così come è definito nei testi, intesa pluralisticamente, cioè più coscienze che corrispondono alle anime individuali, ed una materialità primordiale, mula-prakriti, che potrebbe avvicinarsi al nostro moderno concetto di energia. Questa materialità primordiale è fatta di tre processi costitutivi, e cioè iguna, e questi sono l'intelligenza pura, definita sattva in santo, l'attività pura, definita rajas, e l'inerzia definita Tamas. A causa della copresenza onnipervasiva di due principi, uno, due dei tre, i tre processi costitutivi della materialità primordiale sono sottoposti ad una continua trasformazione e combinazione, proprio perché cosa? Per la salvezza della conoscenza. Viste analiticamente queste varie trasformazioni e combinazioni di questi tre guna, quindi le combinazioni della materia primordiale, sono semplici parti di un tutto perfettamente funzionante. Così come potremmo definire un lumino, l'olio stesso che viene bruciato e il contenitore stesso che mantiene in sede l'olio. Quindi tutti e tre questi costituenti servono a rendere la luce. Quindi un esempio per far capire come questi tre costituenti, sat, rajas e tamas, pur distinti nella loro individualità, contribuiscono insieme a formare un prodotto, un unico prodotto o un'unica funzione. Viste analiticamente queste varie trasformazioni e combinazioni della materialità primordiale o della materia primordiale sono semplici parti di un tutto perfettamente funzionante, quindi viste sinteticamente invece la materia primordiale con i suoi costituenti è costituita come una base materiale in manifesta, dalla quale 23 effetti preesistenti diventano manifesti. Quindi abbiamo già detto che gli effetti sono già presenti nella causa, anche se ancora non sono manifestati, quindi questi 23 effetti preesistenti diventano manifesti nello sviluppo della creazione. E questi sono in linea quasi cronologica dal punto di vista razionale l'intelletto, buddhi in sanscrito, a quale è associata la funzione discriminante, cioè decisione e giudizio. Poi viene l'ego, ankara, come evoluto dell'intelletto. Vedete che l'ankara o l'ego scaturisce dall'intelletto che sta sopra. È l'elemento responsabile delle varie associazioni dei nostri dati percettivi, ad un io e ad un mio, quindi in sostanza al nostro pratico desiderare. Esso condiziona tutto ciò che viene dopo, in questo processo ontologico, perché stiamo vedendo, appunto, come abbiamo premesso, tutta la materia, la questione da un punto di vista ontologico. Successivamente scaturisce un gruppo di elementi sottili, cinque elementi sottili, cosiddetti tarmatra, che sono al tempo stesso descritti come creati e creatori, perché da loro scaturirà un altro o altri elementi. Ancora, un gruppo di sedici elementi aggiuntivi che include. Allora, qui possiamo includere questi elementi che possiamo capire in maniera ancora più razionale e pratica. La mente, manas, che non è altro che un semplice coordinatore. Poi vedremo per quale motivo viene definito coordinatore. Poi vengono i cinque sensi di percezione, cioè la vista, l'udito, l'olfatto, il gusto e il tatto, che hanno la funzione di apprendere gli oggetti. Successivamente le cinque capacità di azione, che sono la voce, le mani, i piedi, l'ano e i genitali. Ed infine i cinque elementi grossolani, quelli che presso a poco tutti più o meno conoscono, cioè l'etere, l'aria, l'acqua, il fuoco e la terra. Le cinque capacità sensoriali, cioè quelle di percezione, abbiamo detto, vista, udito, olfatto, gusto e tatto. Insieme alle cinque capacità di azione, abbiamo detto la voce, le mani, i piedi, l'ano e i genitali e la mente stessa, emergono e al tempo stesso costituiscono la struttura dell'ego. Quindi l'ego a sua volta emerge dall'intelletto. I cinque elementi grossolani emergono dai cinque elementi sottili ed insieme costituiscono il corpo naturale ed il mondo fenomenico, così come noi lo vediamo normalmente. Abbiamo un po' sviluppato, anche se a grandi linee, la visione ontologica. Adesso cerchiamo di collocarci dal punto di vista di una visione epistemologica, cioè la scienza della conoscenza stessa. Un realismo critico basato su tre strumenti di conoscenza, cioè la percezione diretta, l'inferenza o deduzione e la testimonianza verbale. La testimonianza verbale ovviamente è riferita a persone attendibili, quindi non a una persona qualsiasi che neanche si conosca. La consapevolezza è una predisposizione fondamentale, è una caratteristica dell'intelletto, per mezzo della quale l'intelletto stesso assume la forma di ciò che si sta osservando. È come se ci fosse una trasformazione, guardando qualcosa, guardando una persona, la mia mente, che possiamo anche definire consapevolezza, è come se assumesse quella forma per poterla comprendere. Altrimenti vengono considerati due stranei che non si incontrano, quindi devono stare sulla stessa lunghezza d'onda per potersi riconoscere. E ovviamente, e metaforicamente parlando, i testi antichi dicono che la mente assume la stessa forma dell'oggetto che sta guardando. Solo in questo modo possono comunicare reciprocamente. Questi semplici sentimenti soggono dal presente o dalle immediate operazioni intellettuali, ma l'intenzionalità della mente, l'autoconsapevolezza dell'ego e la basilare determinazione dell'intelletto determinano le operazioni del passato, del presente e del futuro, includendo così per esempio la memoria, l'immaginazione, la fantasia, ma anche il sogno e così via. Vediamo poi di inserirci dal punto di vista nella prospettiva psicologica, quindi una visione psicologica o meglio una organica psicofisiologia nella quale la polarità corpo-mente è interpretata come associazione tra un separabile corpo sottile, quello che noi non vediamo, quello che trasmigra normalmente, e un unico corpo grossolano, irripetibile, nato ovviamente dai genitori, quindi un corpo fisico. Da questa prospettiva psicologica si considera che esiste un sottile organo interno antakarana, chiamato così nella definizione sanscrita, un organo sottile interno fatto di intelletto, ego e mente. L'organo interno si trova entro un'ampia interagliatura di tredici strumenti costituiti dagli organi interni appena considerati, cioè quelli che abbiamo elencato prima, buddhi, ankara e manas, quindi l'aspetto mentale e psicologico, insieme alle cinque capacità sensoriali, cioè i sensi di percezione, gusto, vista, olfatto, eccetera, eccetera, e cinque organi di azione, come abbiamo già visto. Quindi un'ampia interagliatura di tredici strumenti costituito da tre elementi interni, elementi mentali possiamo dire, le cinque capacità sensoriali e cinque organi di azione. Ancora, questi tredici strumenti appena descritti, insieme ai cinque elementi sottili, tamatra, dai quali poi scaturiranno gli elementi che noi vediamo, quelli materiali, ma prima di quelli materiali ci sono gli elementi sottili, quindi vedete che il processo va dall'invisibile piano piano per caduta verso una graduale materialità. Quindi, insieme ai cinque elementi sottili tamatra, costituiscono lo sviluppo del corpo sottile, che viene chiamato linga sharira, cioè 18 elementi. Questo linga sharira trasmigra e sottosta ad una sequenza di rinascite sotto la spinta degli effetti delle varie predisposizioni, le quali risiedono queste predisposizioni nell'intelletto e rappresentano ovviamente un'eredità karmica dell'organismo. Ancora, questo corpo sottile composto di 18 elementi rinasce in sequenza nel corpo unico e grossolaro prodotto geneticamente dal padre e dalla madre. Quindi c'è un elemento sottile invisibile che procede da questi che abbiamo già descritto, che si inserisce come un seme all'interno di un corpo fisico prodotto dai geni del padre e della madre. E ancora un'ultima precisazione, comune all'organismo come un tutto è una sequenza di cinque soffi vitali, perché dobbiamo considerare anche la vita stessa nell'organismo. La vita è generata da questi cinque soffi vitali e precisamente prana, questa è la terminologia nella lingua sanscrita, prana, apana, udana, samana e viana, i quali regolano svariate funzioni quali la respirazione, la deglutizione, la funzione fonatoria, la comunicazione, cioè la digestione, l'escrezione, l'attività sessuale, la circolazione dei fluidi corporei e la generale omeostasi dell'organismo. Passiamo poi ad un aspetto ulteriore, la fenomenologia, quindi sotto la prospettiva dell'elemento fenomenologico. La fenomenologia è intesa qui solo nel senso dell'apparente ordinaria esperienza quotidiana, un fenomenismo dinamico basato su una rete di predisposizioni fondamentali che generano ogni giorno il mondo dell'esperienza ordinaria, quel mondo stesso che cade sotto i nostri occhi. A questo proposito vi sono otto predisposizioni fondamentali, quattro delle quali sono sattiviche. Abbiamo detto che queste energie che lavorano separatamente, che però contribuiscono come il lumino che abbiamo descritto, cioè l'olio, lo stoppino e il contenitore, ad uno stesso fine, quindi predisposizioni delle quali alcune sono sattiviche, ossia il rajas e sono il comportamento meritorio, che viene anche definito dharma, la conoscenza, il non attaccamento e la potenza. Queste quattro disposizioni fondamentali sono quindi sattiviche, relativi a sattva. E quattro sono tamasiche, le quali corrispondono al contrario delle precedenti. Tamas è inerzia, tamas è buio. Se rajas, come già detto precedentemente, era corrispondente alla luce, allo sviluppo, alla crescita intellettuale e spirituale, tamas è esattamente l'opposto. Quindi le qualità sono il contrario di quelle precedenti. Naturalmente noi abbiamo detto che ci sono tre guna, quindi sattva, rajas e tamas. Noi abbiamo, vi ho elencato, solamente rajas e tamas, scusate, sattva e tamas. Perché il rajas è assente? Perché il rajas è un catalizzatore, cioè è un elemento la cui presenza permette agli altri due di funzionare o congiuntamente o separatamente. È un po' come il carburante che non mettiamo nel motore per far camminare l'auto. Quindi ritroviamo anche la forza, diciamo che in ogni caso la forza proiettiva di questi fondamentali predisposizioni è determinata dalle attività dell'organismo, cioè nelle passate esistenze. Quindi questo si rifà un po' alla legge del karma. Quali sono le nostre predisposizioni? Sono quelle che abbiamo costruito nella esistenza precedente, ammesso che si creda in questa dottrina della rinascita e della reincarnazione. Quindi la forza proiettiva di queste fondamentali predisposizioni che abbiamo appena descritto è determinata dalle attività dell'organismo, ma non adesso, ma nelle passate esistenze e determinano a loro volta la traiettoria dell'organismo nella vita presente, ma anche in quelle future. Ritroviamo ancora presente quell'importantissimo concetto che gli effetti sono presenti nella causa. Perché questo? Cerchiamo di capire questo concetto fondamentale. Noi siamo il risultato di quello che siamo stati. Se vogliamo riferirci ad esempio allo sviluppo della nostra vita normale, vita abituale, diciamo che un adulto non è altro che il risultato dei comportamenti della sua età, dell'adolescenza, dell'infanzia e così via. Quindi tutto ciò che noi facciamo costituisci un carattere. Questo carattere non si disperde, ma forma insieme ad altre esperienze un successivo carattere che sarà più adattabile ad una persona adulta piuttosto che ad un adolescente o ad un infante. Quindi che significa? Che in me sono presenti già degli effetti che erano nati insieme alla causa. Cioè da bambini abbiamo delle predisposizioni caratteriali, abbiamo delle facoltà che si svilupperanno non appena le condizioni della vita ce lo permetteranno, ma devono essere presenti. Non è che le acquistiamo così dal nulla. Sono presenti dei semi che nel momento stesso in cui le condizioni sono favorevoli si sviluppano e questo nell'adolescenza, nella maturità, nella vecchiaia e così via. Allora ritroviamo ancora presente l'importantissimo concetto che gli effetti sono presenti nella causa. In ogni data rinascita la forza proiettiva delle predisposizioni fondamentali risulta da una particolare costellazione di categorie che ne garantisce per così dire una griglia attraverso la quale un organismo esperimenta il suo mondo. Infine, e questa è la considerazione che chiude questo aspetto, questa è la questione che abbiamo iniziato qualche minuto fa, la forza proiettiva di queste predisposizioni fondamentali insieme con il corpo sottile, quello che non vediamo ma che esiste, d'altra parte noi viviamo attraverso i nostri pensieri ma non si vedono, tuttavia esistono. Esiste ovviamente l'aspetto materiale che sono le nostre sinapsi, la nostra materia cerebrale, ma quelli sono ovviamente lo strumento attraverso i quali i pensieri possono svilupparsi e manifestarsi ed essere in qualche modo decodificati in comportamenti. Quindi la forza proiettiva delle predisposizioni fondamentali insieme con il corpo sottile generano non solamente il dominio dell'uomo, il dominio del mondo, ma anche il dominio divino e cosmico ed il dominio delle piante e degli animali, tutto ciò che l'uomo riesce a concepire. Presi insieme questi domini si intendono riferiti al mondo esterno con satva che predomina nel piano divino, abbiamo visto quindi tre guna, le tre tendenze, quella diciamo più pura satva che predomina nel mondo divino, rajas nel piano umano con l'attività, la sofferenza, l'attività incestante e tamas nel piano animale vegetale, quindi la forza di inerzia. Possiamo prendere ancora in considerazione un altro aspetto, un'altra prospettiva, la prospettiva etica, una razionale rinuncia dell'ordinaria esperienza basata su un edonismo psicologico, la quale rinuncia genera la consapevolezza che il continuo piacere e sofferenza debba infine essere superato, ossia l'esperienza della frustrazione. L'esperienza della frustrazione è triplice, può essere una frustrazione interna o personale, una frustrazione o un dolore sia mentale che fisico, una frustrazione esterna che provenga sia da altre persone che dagli animali, dagli oggetti del mondo eccetera, è una frustrazione o un'esperienza dolorosa celeste, ma con questo dobbiamo stare attenti perché può trattarsi, può riferirsi ad esseri sopranaturali ma anche ai fenomeni astrologici, forze cosmiche eccetera. Questa frustrazione è inevitabile nell'esperienza ordinaria e genera a sua volta il desiderio di conoscere i mezzi per superarla. La frustrazione quindi è un'esperienza di sconforto e può essere contrastata con due altri sentimenti tipici che ricorrono nell'esperienza ordinaria, come può essere contrastata la frustrazione con la soddisfazione, sukka in sanscrito e con la confusione, pensate, la confusione che viene tradotta in moha in sanscrito. Che cos'è la soddisfazione in generale? È un'esperienza di quieta tranquillità, shanti, mentre la confusione è un'esperienza di disorientamento e di alienazione, però anche la frustrazione con questo disorientamento permette di abbassare il livello del dolore. Quindi vedete noi abbiamo abbinato sia soddisfazione che confusione, anche se sono di carattere opposto, con polarità antitetiche, eppure tutte e due possono contribuire all'abbassamento della frustrazione del dolore. Abbiamo detto la confusione, prendiamo un esempio quotidiano, una persona che si ubriaca, va bene? Quante persone per poter superare il dolore o la frustrazione ricorrono alle bevande alcoliche? Per entrare nella fase di confusione, quindi possiamo introdurre uno stato di soddisfazione, magari facendo qualcosa che ci piaccia o pensando a qualcosa che ci piaccia, oppure al contrario la confusione, inebriandoci e quindi perdendo la razionalità stessa, ma tutte e due contribuiscono ad abbassare il livello di dolore e di frustrazione. La riflessione su questo concetto rivela che il continuum soddisfazione, confusione e frustruzione si riferisce a tre dimensioni che permeano il mondo manifesto, cioè la chiarezza, l'esteriorizzazione dell'attività e la reificazione dell'inerzia. Siamo di nuovo nei tre elementi della materia o dell'attività, sattva, rajas e tamas. Una ulteriore riflessione, utilizzando gli strumenti della percezione, differenza e testimonianza autorevole, rivela inoltre che questi tre costituenti insieme confezionano la materialità primordiale, nei suoi aspetti manifesto e manifesto, cioè visibile e invisibile. Lo scopo etico del Sankhia è quindi quello di individuare la presenza di una conoscenza trascendentale, questo è il punto fondamentale, individuare la presenza di una conoscenza trascendentale che è distinta dalla materialità primordiale e dai suoi tre costituenti. E quindi, e questo è ovviamente lo scopo di tutte le scienze sacre dell'India, ottenere un radicale isolamento, chiamato nello Yoga Suta di Patanjali Kaivalya, o liberazione dalla ordinaria umana esperienza. Non dimentichiamoci che tutte queste scienze, tutte queste filosofie non sono fatte per il piacere del ragionamento, il piacere dell'indagio o della ricerca, ma sono fatte esclusivamente per evitare la sofferenza. Il concetto fondamentale che sta alla base di quello che ho detto è che ogni esistenza è fonte di sofferenza, ogni esistenza nelle varie rinascite è una fonte di sofferenza, perché tutto ciò che abbiamo acquisito ha una certa durata e finisce, i nostri beni vengono acquisiti, ce li godiamo e finiscono. Un rapporto coniugale, un rapporto parentale, si vive, si gode nella vita abituale e finisce ovviamente per tante cause materiali. Persino la nostra vita, noi nasciamo, cresciamo, svolgiamo il nostro ruolo nel mondo e poi perdiamo la nostra vita. Quindi che significa questo? Non lo diciamo noi, ma lo dicono tutte le filosofie orientali, in particolar modo le filosofie dell'India antica, che alla fine ogni realtà finisce con la sofferenza, finisce con la privazione. Questo non è pessimismo, questo è il realismo, questo è un concetto che sta alla base di una visione attenta del mondo, una visione attenta dell'umanità, una visione attenta delle nostre azioni e dei nostri comportamenti. Quindi tutto ciò che noi abbiamo goduto alla fine terminerà e perdere qualcosa a cui si è tenuto, che si tratti di patrimoni, che si tratti di affetti, che si tratti di relazioni, non è altro che sofferenza. Quindi tutte le dottrine filosofiche, lo yoga incluso, non pensato allo yoga moderno, che è qualcosa di talmente lontano con il quale oramai condivide poche cose, ma lo yoga classico mirava a questo, cioè a isolarci in modo tale da non dover essere costretti a rinascere una seconda volta e quindi reiterare e ripassare e ripercorrere tutte quelle tappe che poi ci portano alla delusione finale, al dolore terminale di ogni cosa che abbiamo posseduto, di qualsiasi cosa si tratti. Quindi ripeto, lo scopo del Sankhya e anche dell'ogio yoga ovviamente è pertanto quello di individuare la presenza di una coscienza trascendentale che è distinta dalla materialità primordiale, quella che noi viviamo quotidianamente e dai suoi costituenti e quindi ottenere un radicale isolamento finché sia in vita, quindi con le nostre attività, con le nostre scelte, con la nostra meditazione e arrivare ad una liberazione dall'ordinaria umana esperienza. Grazie. 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 Grazie.